Le chiavi della città, è come le chiavi di casa, questa è importante, pesante questa. Ti passo anche la fascia. Grazie. È sempre un momento significativo, quello del passaggio delle consegne tra il vecchio sindaco e quello nuovo. Si tratta di un vicendevole scambio di vita per le persone interessate, è un cambio di registro per la città. Oggi Massimo Seri ha consegnato la fascia tricolore e le chiavi della città al sindaco Luca Serfilippi. Lo ha fatto nella sala della giunta alla presenza di non pochi consiglieri eletti e di alcuni cittadini. Dieci anni fa ho vissuto questa cosa in senso opposto, nella parte opposta, nel senso di chi riceveva dal mio predecessore la fascia e le chiavi della città. Oggi, dopo dieci anni, faccio la stessa cosa con Luca Serfilippi, il 24esimo sindaco della città di Fano. L'ho fatto con emozione perché dieci anni di sindaco di una città, della tua città, è qualcosa di straordinario, di difficile. È una grande responsabilità ma è anche una grande esperienza di vita e penso poi, dopo dieci anni intensi, dove è capitato di tutto, dalle emergenze, le tante cose fatte, sia inevitabilmente, umanamente parlando, emozionante. Questo passaggio lo faccio con i grandi auguri al nuovo sindaco, a Luca Serfilippi, che è una persona per bene e che gli auguro di fare meglio di me perché non dimentichiamo, ci sono le elezioni, poi si sceglie una persona che sarà il sindaco, il sindaco di una città e di tutti. Quindi merita tutta l'attenzione, il rispetto e la collaborazione. Poi, come si diceva, in fondo si rimane sempre sindaci, anche quando non lo si è più e quindi con quello spirito c'è anche uno spirito di aiutare e di dare anche suggerimenti, magari anche nel passaggio delle tante cose, perché lasciamo anche 72 milioni di cantieri in corso su 100 investimenti ancora in corso, quindi 30 ancora che devono partire, quindi è una bella responsabilità, è anche una bella eredità che si lascia, un comune tra i meno indebitati penso nel paese, non soltanto nella nostra regione con meno di 5 milioni, quindi è una cifra irrisoria per chi conosce la situazione degli enti locali, quindi lasciamo anche in buona salute l'amministrazione. Detto questo, veramente di cuore lo dico, da sindaco uscente, i migliori auguri perché faccia meglio di me, perché l'auspicio è che la città cresca sempre più, diventi sempre più bella, più accogliente, con servizi più efficienti, quindi l'auspicio è che faccia bene, auguri caro Luca Serfilippi, 24esimo sindaco della città di Fano. E nella risposta Luca Serfilippi, pur non condividendo la gestione attuata, ha lodato lo stile della vecchia giunta. Chiaro che ringrazio il sindaco uscente Massimo Seri perché non era scontato questo passaggio di consegne, un'emozione perché comunque il peso della fascia è un peso importante, è cambiata la vita in questi due giorni, e devo dire che sto registrando un grandissimo affetto da parte dei fanesi, un grandissimo calore, ho chiesto alle persone che ho incontrato questa mattina per il corso di starmi vicino, di starci vicino, perché comunque sono momenti impegnativi. È chiaro che ho voluto la bicicletta, quindi adesso dobbiamo pedalare, la prima cosa che dovrò fare è una nuova giunta, una nuova giunta competente che ha bisogno e che mi affiancherà per far tornare a crescere questa città. Come saranno i tempi? A giorni oppure? Beh, è chiaro che è importante prendersi il tempo necessario per far sì che le persone giuste vadano al posto giusto, tenendo conto comunque della rappresentatività di tutti i partiti e delle liste che mi hanno sostenuto, ma anche dei voti, delle persone, le preferenze che hanno preso i vari candidati, ma anche le competenze, quindi le persone giuste al posto giusto. Devo dire che non penso di avere grandi problemi, però ci sono dei passaggi istituzionali da fare, quindi io mi auguro che in questi dieci giorni, massimo due settimane, di poter nominare la giunta e partire con la convocazione del Consiglio Comunale, quindi partire, essendo il ventiquattresimo sindaco della città di Fano, partire a pieni poteri. Sindaco, lei conosce l'amministrazione comunale così come è lo Stato attuale, perché poi l'ha seguita anche dai banchi dell'opposizione. È una macchina complessa, intende operare subito per cercare di rinnovarla? È chiaro che ho già convocato per domani la conferenza dei dirigenti, incontrerò i vari uffici, però è un lavoro che dovremo fare insieme alla giunta, quindi la riorganizzazione della macchina comunale necessita comunque una presa importante di tutte le varie situazioni che ci sono. Mi troverete in ufficio, ma mi troverete soprattutto in mezzo alla gente, perché poi bisogna toccare con mano i problemi, visitare i quartieri, affrontare le situazioni sul posto, sul campo. Quindi sarò un primo cittadino sicuramente molto presente in città, in tutti i quartieri.